La nostra conterranea Francesca Barnabei sta esponendo al Teatro Ariston di Sanremo una sua opera, Canal Grande, una veduta di Venezia illuminata da una luce crepuscolare. La mostra, Art Expo Sanremo, è a cura di Vittorio Sgarbi e partecipano artisti provenienti da tutto il mondo, in questo caso una ristretta cerchia, solo 50. L'esposizione si chiuderà domani, domenica 17 settembre. È sempre bello e inorgoglisce vedere una persona dei nostri luoghi raggiungere importanti mete e farsi notare e valere per le sue qualità uniche. Auguriamo a Francesca di continuare il suo percorso artistico e di avere un successo sempre più gratificante. Grazie a tutti i nostri luoghi. Grazie a tutti i nostri luoghi.